Bene amici se fossi negli Stati Uniti direi I'm so excited e si perché qua dentro ci sono i nuovi iPhone 12 standard e però andiamo subito a disimballarli perché qua si è scatenata una polemica i due case che hanno la possibilità di essere connessi anche col MagSafe genialata poi vi racconto ma no cos'è lo sapete già tranquillamente la polemica su cosa si è scatenata sulle dimensioni delle scatole ma soprattutto le dimensioni sono così perché dentro adesso vediamo cosa non c'è dentro partiamo dal 12 che bello ma se ve lo tolgo dalla scatola guardate sotto cosa c'è il cavo che è un tipo C lightning e qua dentro non c'è assolutamente nulla ah sì gli adesivi immancabili e la spilletta qual è stata la polemica che non troviamo il carica batterie Apple ha giustificato questa scelta con dei dati ha detto che praticamente miliardi persone hanno già un carica batteria a casa e allora scusate questo momento è ancora forse più eccitante quello del Pro e avendo già un caricabatterie in casa andare a ridurre le dimensioni della scatola non mettere un altro caricabatterie in confezione vuol dire andare ad abbattere la CO2 messa perché si può trasportare in maniera più efficiente perché è inutile andare a aggiungere un altro caricabatterie quando molte persone lo hanno va bene va bene tutto la giustificazione è condivisibile forse non è condivisibile il fatto che il cavo sia di tipo C e l'80% delle persone ha un caricabatterie con l'uscita USB standard forse mettere due cavetti? Boh non lo so sapete su queste cose non si sa mai le cose giuste le cose sbagliate il fatto sta che se volete l'alimentatore e non lo avete dovrete comprarlo a parte e poi torniamo sul discorso MagSafe ma anche questo no bellissimo ragazzi di questo colore è veramente bellissimo anche qua tolgo la pellicola che ormai è un rito e non vedo l'ora di accendere lo schermo perché perché lo schermo è da 6.1 pollici xdr oled 460 ppi ma secondo me la vera rivoluzione di quest'anno è che anche iphone 12 ha lo schermo oled da 6.1 pollici differenza nei materiali perché qua abbiamo alluminio mentre qua abbiamo acciaio cambia anche la finitura acciaio veramente bellissimo lucido e alluminio invece opaco altra grossa differenza ovviamente il comparto delle fotocamere perché qua abbiamo una tripla camera non uno stravolgimento rispetto all'11 pro nell'11 pro max che poi arriverà un pochino più avanti lì ci sarà una zoom 5x ci sarà un sensore più grande qui abbiamo comunque una possibilità incredibile data anche dal processore poi ovviamente me lo configurò tutto che è la 14 bionic nel keynote ci hanno fatto vedere come sono riusciti con un iphone a editare un file hdr dolby vision che lui riesce a registrare a 60 frame per secondo lui si ferma ai 30 frame per secondo ma è un file ragazzi giusto per darvi un'idea che la metà dei vostri computer non riuscirebbe ad editare e questo vi la dice lunga sulla potenza proprio del processore i celoduristi della scheda tecnica hanno storto il naso quando hanno letto che il refresh del display è ancora a 60 Hz ma sappiamo Apple implementa una nuova tecnologia solamente quando il rapporto tra i benefici e i costi con la tecnologia è a favore dei benefici qua però c'è il 5G e secondo me sui 120 o 144 Hz che non ci sono da una parte hanno messo il maggior consumo di batteria la qualità di visione globalmente inferiore quando andiamo ad alzare il refresh rate dall'altra c'era il miglioramento della fluidità e hanno scelto a questo giro di tenere i 60 Hz invece una cosa che plaudo è la ricerca sui materiali in Apple veramente interessante perché qua abbiamo un ceramic shield cos'è uno scudo in ceramica? no è comunque vetro ma è un vetro molto particolare quattro volte più resistente del precedente alle cadute perché ci sono dentro fuse insieme al vetro delle nanoparticelle di ceramica la cosa difficile secondo me in Apple è stata rendere comunque trasparente il vetro perché la ceramica non è trasparente ma l'idea è geniale vi faccio un parallelismo col mondo dell'architettura e dell'ingegneria avete presente il cemento? il cemento è un materiale molto resistente a compressione ma tendenzialmente fragile allora viene fibro rinforzato cioè si mettono dentro delle fibre di vetro che vanno a legare un pochino il cemento e ne esce un materiale molto più resistente qua Apple ha fatto la stessa cosa con la difficoltà appunto di mantenere il vetro trasparente invece una piccola critica che voglio fare è sul... no non sulla tacca a me personalmente non ha mai dato fastidio poi qua abbiamo un display che è nelle stesse dimensioni dell'11 vedete è leggermente più grande ma veramente molto molto poco ma è molto più grande 5.8 si passa a 6.1 pollici quindi la tacca a me non dà fastidio ma il sensore di impronte digitali sul pulsante eccessione poteva essere implementato è stato messo su iPad Air e in tempi di Covid mascherina il Face ID fallisce quando abbiamo la mascherina dobbiamo mettere il codice sarebbe stato secondo me molto comodo invece bene la famosa genialata il MagSafe che consente di avere una ricarica wireless ma ottimizzata un po' la criticità della ricarica wireless è che deve andare a beccare il punto giusto della bobina rispetto al caricatore se così non succede la batteria si scalda la carica viene rallentata invece col MagSafe e i magneti il caricabatterie si attacca sempre nel punto giusto anche quella è una genialata molto belli molto belli sinceramente a me questo design fa impazzire un piccolo aneddoto velocissimo uscita di iPhone 4 cambiava il design c'erano ancora pochi appostore iconicità incredibile allora con il forum di appassionati abbiamo organizzato abbiamo anche fatto stampare delle magliette la notte bianca all'Apple Store penso sia uno dei giorni che ricorderò per sempre c'era anche il Bordons che lavorava con me non so secondo me c'erano almeno 3-4 mila persone in coda abbiamo passato una notte tra appassionati è stato veramente molto molto bello ma dai sto parlando troppo vi dico che il P68 può resistere a 6 metri di profondità molto leggero 187 grammi questo ancora più leggero 162 grammi maneggevoli lui arriverà anche in versione mini ma c'è la LiDAR da questa parte irritata da iPad Pro per andare a fare delle scansioni di ambienti in tridimensione ma ho qualche giorno adesso prima di poterveli far vedere quindi dai prova sul campo ribadisco il fatto che con la mascherina ci avesse avuto il touch ID mamma mia quanto sarebbe stato più comodo così beh così riconosci che abbiamo la mascherina e ci chiede subito il codice di sblocco ma la cosa che vuoi far vedere è come sotto luce del sole si veda veramente molto molto bene questo display e poi la forma questa nuova forma così fa sì che si tenga molto meglio in mano perché ha questi bordi spigolosi che fanno decisamente più grip ma adesso voglio provare la parte fotografica c'è il mercato qua la frutta e verdura è bellissima da fotografare ma per non farmelo sgamare facciamo così gli metto la cover tra l'altro cover col magsafe che viene riconosciuto dal telefono prima diceva che le sue capre le sue mucche pascolano senza recidire vero non recitato e ragazzi lui ha il pollo migliore tutta porta nuova e ovviamente in registrazione c'è il passaggio tra le cam mi sembra tanta roba la stabilizzazione non provo ancora il dolby vision perché quello lo proverò in un video dedicato è tutta una prova pazzesca in pista in dolby vision e oggi grandissimo mezzo in prova ma soprattutto il colore guardate che colore con questo colore sarebbe stato perfetto l'iphone 12 pro oro forse un po' eccessivo come questa macchina non lo so lo vorrei vedere sta di fatto che è ormai un giorno che sto provando invece questo iphone 12 standard e vi posso dire che a questo giro con il fatto che il display è OLED con il fatto che la dimensione è la stessa il processore è lo stesso Apple ha fatto veramente centro con secondo me la versione standard perché cosa cambia rispetto alla versione pro che ho dato a Chiara per smanettare il comparto delle fotocamere qua c'è il LiDAR qua c'è la 2x può fare i video in Dolby Vision fino a 60 frame per secondo ma questo lo fa comunque a 30 insomma delle differenze proprio relegate alla fotocamera per il resto quest'anno un po' di sovrapposizione e benvenga per il 12 che è cresciuto tanto e si è posizionato praticamente come il pro cambia anche la finitura vedete questa è in alluminio quella in acciaio lucida Chiara molto sembrano allora questa qua che mi hai dato tu devo dire che esteticamente mi piace molto mi piace il fatto che il bordo sia lucido e il retro sia opaco lo trovo una finezza veramente bella da tenere in mano rispetto al tuo lo trovo un po' più pesante senti questo che è più leggero tra l'altro esatto il 12 è anche più leggero ma questo è più pesante di questo come touch and fill presa a me sembra che si prenda meglio rispetto al bordo stondato sì forse forse sì però vabbè io amo anche il bordo stondato sì questo è più leggero però devo dire che come look mi piace molto questo sì molto carino immagina un autolo oro come la macchina forse un po' troppo c'è anche argento e nero scusa che te lo rubo perché voglio far vedere una cosa il processore a 14 è veramente una bomba non solo per far girare le solite cose che ormai girano sappiamo benissimo con tutti gli iPhone ma vediamo se riesco a far vedere al volo sto facendo un progetto con iMovie un progetto tutto in 4k con dei video girati al volo al mercato ieri e devo dire che è veramente una bomba di velocità e visto che è arrivato su entrambi il 5G e io ho copertura 5G facciamo uno speed test 32 i millisecondi ping la bestia no vabbè incredibile penso che sia lo speed test più veloce che abbiamo visto addirittura 700 mamma mia quasi sfiora gli 800 megabit per secondo mamma mamma mia 700 795 in upload sempre un po' di meno ma sappiamo la tecnologia odiana del 5G fa così ma tanta tanta roba il modem ma voglio farvi capire anche quanto la scansione LiDAR può essere utile io sto facendo la scansione del mio soggiorno con una app apposita e come vedete riesce a riconoscere i punti in maniera tridimensionale grazie proprio al campo posteriore laser finita la scansione del modello inizia la scansione della texture da applicare al modello tridimensionale che ha creato semplicemente girando per casa con il telefono vedete il modello tridimensionale che si sta man mano vestendo cioè questa cosa è una svolta per gli architetti e per i designer e gli arredatori e guardate incredibile come in tre minuti netti io abbia un modello tridimensionale per punti del mio soggiorno veramente tanta roba posso vedere anche in 3d andando a spogliarlo della texture vedendola solo in pianta vedete qua le pareti che sono state tranquillamente riconosciute posso ovviamente zoomare guardarlo dentro girarci intorno e ho anche la pianta in bidimensione ovviamente non un rilievo al millimetro ma per fare una scansione rapida al volo e poi esportare i dati 3d tanta roba ah e dopo quattro giorni e un taglio di capelli veniamo alle considerazioni partendo dal prezzo 1189 euro la versione pro da 128 gigabyte si può arrivare fino a 512 con 1539 euro invece la versione standard 939 euro in taglio 64 gigabyte secondo me è un po' anacronistico ci vogliono almeno i 128 a 989 euro è vero costano tanto ma vi danno una grandissima esperienza a 360 gradi a naso il pro quest'anno è dedicato più ai creator di contenuti perché ha una grandissima foto videocamera alla LiDAR avete visto per i professionisti può avere un grande senso ma quest'anno l'iPhone per tutti e dove per tutti intendo comunque una fascia che ha la possibilità economica di spendere questa cifra anche perché vi ricordo in casa Apple c'è l'SE che va bene per il 90% delle persone che è stata secondo me un'operazione molto valida di Apple funziona veramente bene ma il 12 perché gli anni scorsi sia XR sia l'11 non pro non mi avevano fatto impazzire perché non avevano le stesse specifiche del pro a livello di display qua abbiamo un bellissimo display abbiamo lo stesso four factor abbiamo lo stesso processore insomma tutta una serie di specifiche che consentono un utilizzo al pari proprio del pro al netto di quelle piccole differenze che però sono utili proprio ai creator e non alla massa e dopo questa considerazione io aspetto veramente 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 tanto la versione mini del 12 e la versione max del pro questo perché la forbice tra utilizzo quotidiano e il mini secondo me avrà un utilizzo quotidiano fantastico da capire la batteria tra l'altro non ve l'ho detto ma la batteria qua mi è arrivata a sera in una giornata stress tranquillamente con il 20% e la versione pro max che è ancor più dedicata ai creator potranno allargare questa forbice allora si farà un confrontone tra tutti i quattro per capire il senso e quale iphone per chi ma adesso i prossimi appuntamenti saranno domani forse arriva un ipad non lo so ma dopo domani recensione del pro e il giorno dopo recensione del 12 ciao ragazzi